Ad opera di tre amici che avevano già militato per un certo periodo di tempo in un precedente studio, dove si sono fatti le ossa, fino ad arrivare a maturare la decisione di camminare con le proprie gambe e creare una nuova struttura in cui lavorare cercando di operare secondo dei principi comuni su cui ci trovavamo tutti d'accordo.